Stavelle, preparativi per la salita pomeridiana al rifugio. Per 10 euro, tutti siamo scialli. Alla grande, ci ferma il video. Alla grande. Siamo partiti, adesso tre ore al rifugio, poi pernottiamo e domani mattina Presanella alla grande. Ora c'era bel caldo, tutti in maglietta. Ora abbiamo il sole, quindi ci sta da Dio. Quota 3.000. Stiamo andandola da un'oretta e mezza. Ora siamo arrivati a questa selletta. Grazie. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.